Le donne vogliono far sesso più degli uomini e in questo video vedremo il perché. Scopri come più di 1400 uomini in Italia stanno finendo in camera da letto in poche ore con nuove ragazze conosciute al vivo, riducendo quasi a zero le possibilità di essere rifiutato grazie al metodo AAA. Funziona anche se non sei bello o ricco e anche se hai più di 40 anni. Rivelerò il metodo AAA in un evento online, in diretta, gratis, domenica 21 luglio, ore 21. Per registrarti gratis clicca sul link in descrizione o vai su www.metodoAAA.com Quindi dopo aver fatto sesso con praticamente 93 ragazze in 3 anni, negli anni che vanno dal 2018 fino al 2020 e magari la regia metterà qua schermo qualche foto di miei risultati con ragazze, ti posso confermare che anche le ragazze vogliono far sesso tanto quanto l'uomo, semplicemente non lo possono ammettere per tutta una serie di motivi che vedremo in questo video. E l'uomo finisce per cascarci, quindi finendo a credere che anche le donne, anzi non che anche, che le donne vogliono aspettare un sacco di tempo prima di finire a letto, che se ci faccio sesso al primo appuntento l'ho fregata, l'ho manipolata, lei non lo voleva e tutte queste varie cose che vedremo che in realtà non sono così, che ti portano semplicemente poi a fallire con le donne. Quindi uno dei motivi per cui non arrivi al sesso con una ragazza che conosci, una ragazza con cui sei uscito, una ragazza che stai frequentando, o ragazze che hai frequentato in passato con cui poi non sei arrivato al dunque, è proprio perché, uno dei motivi, perché aspetti troppo tempo prima di arrivare al sesso. Potrei farti 500.000 esempi, ma tieni conto che la maggior parte delle ragazze possono tranquillamente far sesso al primo appuntento con il ragazzo giusto, che fa le cose giuste. Quindi mi ricordo di, ancora prima che mi interessassi, al mondo del miglioramento delle donne, parliamo del 2014, quindi sono passati dieci anni ormai, e mi ricordo, avevo un paio di amici, che gli era capitato per caso di entrare in una relazione, ma in realtà non erano in una relazione perché non c'avevano ancora fatto sesso con la ragazza in questione, e ne parleremo verso la fine di questo video, che finché non c'hai fatto sesso con la ragazza in questione, non sei fidanzato. Potete anche dirvi che siete fidanzati, ma non ci sarà un vero attaccamento emotivo come se foste veramente fidanzati, ne parliamo poi verso la fine di questo video. E essendo entrati in quella che loro chiamavano relazione, dopo, sempre più o meno dopo un mese, succedeva che la ragazza a un certo punto spariva. Oppure semplicemente diceva, guarda, non me la sento più di continuare, e spariva. Il tempo era sempre più o meno un mese, in qualche caso due mesi. Quindi, e a alcuni di questi miei amici, in passato, è successo più di una volta, questo stesso scenario. Quindi con più ragazze, diverse volte. Quindi perché? Perché dopo un po', dopo un mese la ragazza si è rotta i coglioni. Quindi mi ricordo anche di un mio vecchio amico, che praticamente sono andati a casa di lui diverse volte, e non hanno mai fatto niente, sì, soltanto baciarsi. E dopo un po' anche la ragazza si rompe le palle, anche la ragazza a un certo punto vuole arrivare al dunque. Semplicemente non vuole sentirsi giudicata, non vuole sentirsi quella facile che la dà al primo appuntento. Ciò non significa che allora non puoi farci sesso al primo appuntento. Adesso ne parleremo. Quindi, le ragazze dicono che vogliono aspettare semplicemente per tutta quanta una serie di condizionamenti che impone la società. Perché nel momento in cui una ragazza, che sia giusto o sbagliato, non ci interessa, quindi non è che si può cambiare questa percezione. Un uomo che fa sesso con tante donne viene visto come il figo, una donna che fa sesso con tanti uomini viene vista come quella facile, la poco di buono, la troia, la zoccola, e quella che la dà facilmente. Quindi tutte cose chiaramente non positive, tutte cose che chiaramente la ragazza non fanno piacere. E quindi le donne sono molto attente al non farsi questo tipo di reputazione e di conseguenza devono essere più attente, più caute nel manifestare interesse per il sesso. Ma non significa che non lo vogliono fare o che non abbiano interesse. Ora ne parleremo. E siccome allora devono essere più caute, devono magari fare delle volte un po' quella difficile e lo fanno semplicemente perché così non appaiono quella facile, quella che la dà facilmente. E l'uomo ci casca. Pensando che, no, ma vuole aspettare un sacco di tempo, vuole aspettare prima dieci appuntenti, vuole che prima aspettiamo che ci frequentiamo per tre mesi, no, ma in realtà non lo vuole, ma se ci faccio sesso al primo appuntento, l'ho fregata, l'ho manipolata, lei non lo voleva, tutte cose che non sono assolutamente così. Dati oggettivi che ci dà la scienza. Nel clitoride, se non sai dove è il clitoride, vallo a cercare su Google, alcuni potrebbero non saperlo, non vedendo magari una figa da dieci anni, quindi una figa che ti sei conquistato tu, non una figa che hai pagato. Nel clitoride ci sono il doppio delle terminazioni nervose che ci sono nel pene. Quindi il piacere che tu provi da uomo nel sesso, ti ricordi l'ultima volta che hai fatto sesso, no, no, non con la escort, no, non con la escort, con una che ti sei conquistato per davvero, con una che magari ti piaceva anche, quindi per la maggior parte di chi guarderà questo video si parla di decenni fa, quindi però ti ricordi l'ultima volta che hai fatto sesso con una ragazza che ti sei conquistato, ti ricordi il piacere che hai provato nel sesso, quindi o anche facciamo con la escort, così almeno più persone si possono riconoscere in questo esempio. Quindi ti ricordi l'ultima volta che hai fatto sesso, che sia a pagamento o con una che ti sei conquistato, ti ricordi il piacere che hai provato, quindi la donna lo prova il doppio, scientificamente, in realtà anche di più. Quindi adesso lo vediamo, quindi nel clitoride ci sono il doppio delle terminazioni nervose che ci sono nel pene. Le donne hanno diversi tipi di orgasmi, hanno l'orgasmo vaginale, clitorideo, l'orgasmo anale, l'uomo purtroppo ne ha soltanto uno di orgasmo. L'orgasmo dell'uomo dura in media 3 secondi, l'orgasmo della donna dura in media 20 secondi. Quindi le donne sono proprio progettate, fatte dalla natura per godere molto di più durante il sesso, semplicemente non possono dimostrarlo in maniera troppo esplicita. Quindi, a parte che pensa, anche l'ultima volta hai guardato un video porno, probabilmente qualche ora fa, o ieri o l'altro ieri, e chi gode di più, chi grida di più nei video porno, chi urla di più dal piacere? E di solito è la donna. Quindi le donne hanno molto più interesse dell'uomo nel sesso, semplicemente non possono farlo vedere in maniera troppo esplicita. E però purtroppo l'uomo ci casca in questa bugia, finendo per aspettare 500 anni, anche quando aveva l'occasione, bruciandosi poi di conseguenza le possibilità di arrivarci al sesso. Nel momento in cui ti bruci le possibilità di arrivarci al sesso, la ragazza si rompe coglioni e andrà con qualcun altro che non è così per di tempo, che sa come fare le cose fatte correttamente. Infatti, quando poi sei fare un appuntamento fatto in maniera corretta, sai, portare un'interazione dall'approccio fino al sesso nella maniera corretta, molto spesso sentirai frasi del tipo ah guarda, non mi era mai capitato di aprirmi così velocemente, non ho mai fatto sesso con uno dal primo appuntamento, o frasi di questo tipo. Quindi la domanda è come è possibile? Si sono messe tutte quante d'accordo? Abbastanza improbabile. Quindi è perché effettivamente sì, per una ragazza molto spesso è la rarità il far sesso al primo appuntamento, ma semplicemente perché è una rarità trovare un uomo che sappia può condurre un'interazione dall'inizio fino al far sesso al primo appuntamento, anche perché uno dei modi per far sesso al primo appuntamento è togliersi tutti quanti i vari blocchi mentali sul sesso. Altrimenti la ragazza percepirà il giudizio da parte tua, percepirà che hai un giudizio negativo verso le ragazze che fanno sesso al primo appuntamento e non si lascerà mai andare. Lo percepirà, non è una cosa che le dice parole, non basta semplicemente dirle ah tranquillo io non ti giudico, forse è così facile, tutti quanti scoperebbero al primo appuntamento. Se tu hai in testa in primis questi blocchi mentali che far sesso al primo appuntamento è impossibile, che una ragazza che fa sesso al primo appuntamento è una zoccola e far sesso al primo appuntamento è impossibile e il preludio di qualcosa di non serio se una ragazza mi interessa tanto devo aspettare tanto tempo prima di farci sesso. Se hai tutte quante queste cose in testa sono tutti quanti blocchi mentali sul sesso che automaticamente li trasmetti alla ragazza e non si lascerà mai andare. Magari la ragazza era anche abbastanza aperta mentalmente e trasmettendogli questa atmosfera di giudizio lo percepisce che non sei tu in primis a posto con te stesso che non credi possibile neanche il far sesso al primo appuntamento come da un lato è giusto anche io quando ero agli inizi mi ricordo dicevo proprio alcuni miei amici che erano più bravi di me ai tempi gli dicevo ma che problema c'è vado al primo appuntamento arrivo al bacio e poi al massimo ci arrivo al sesso al secondo appuntamento eh sì e se però c'è l'occasione di farci sesso al primo appuntamento succede che non la rivedrai più per il secondo appuntamento perché quando perdi l'occasione fai vedere alla ragazza che o ti sei perso l'occasione per mancanza di coraggio e quindi la ragazza perde interesse o ti sei perso l'occasione per mancanza di intelligenza sociale quindi intelligenza nel capire la situazione e siccome il coraggio e l'intelligenza del capire la situazione sono due caratteristiche che creano attrazione in una ragazza quando queste due caratteristiche la ragazza vede che mancano perde interesse ecco perché molte volte quando avevi l'occasione e te la bruci non la rivedi più succede così anche per il bacio quando avevi l'occasione di farlo e non lo fai molte volte succede che la ragazza non la rivedi più e l'altra cosa anche che devi capire è che anche tu in realtà vuoi far sesso con la ragazza questo lo dico perché tantissimi uomini appunto per via di blocchi mentali sul sesso bisogna avergognarsi per la sessualità tutte le cose che ci impone la società prova ad andare a comprare i preservativi di persone in una farmacia in un supermercato e vedrai che ti sentirai a disagio ti sentirai in imbarazzo perché? per via di tutti quanti i condizionamenti negativi che ci impone la società che bisogna avergognarsi della propria sessualità che la parola sesso bisogna censurarla se no varie cose quindi tutti quanti questi messaggi che passano alla società portano le persone ad avere blocchi mentali sul sesso e quindi tantissimi uomini anche magari quando delle volte si interfacciano con noi e gli chiediamo che obiettivo hai con le donne ah sì vorrei conquistarla ma vorresti andarci a letto no no non vorrei andarci a letto vorresti andando conquistarla essere un po' simpatico essere quello divertente il sesso non c'è proprio neanche nei pensieri di tantissimi uomini proprio perché pensano molte volte che sia una cosa negativa oppure che sì quello arriverà poi dopo dopo un sacco di tempo dopo la frequentazione poi ci sono anche uomini che ci hanno chiaro che a un certo punto bisogna anche arrivare al sesso ma se non ti interessasse il sesso uno non saresti in questo video due non saresti sui siti porno ogni tot volta a settimana quindi accettalo con te stesso capisci con te stesso che non è una cosa negativa il fatto di finirci a letto al primo puntento anche la ragazza lo vuole lo vuoi anche tu lo volete entrambi fatevi un favore entrambi devi capire che se vuoi una fidanzata devi prima andarci a letto questa è una cosa che faccio questo lavoro dal 2018 dal 2018 abbiamo aiutato oltre 1400 uomini a portarsi a letto nuove ragazze ho fatto questo istandate con tre ragazze cos'è l'istandate per chi non so un appuntamento istantaneo cioè ti prendi un caffè subito lì e una di queste poi è diventata la mia fidanzata grazie alla lezione sul cosa fare in casa Luca non ti ringrazierò mai abbastanza per questo perché è una cosa fondamentale che mi ha fatto svoltare perché adesso ho capito cosa devo fare e sono riuscito a chiuderla attualmente mi vedo ancora con la ragazza l'argentina allora l'ho approcciata è andata bene l'ho portata in un instantane l'ho portata in una seconda location l'ho portata in una terza location l'ho portata a casa anche addirittura alcuni a finire in una relazione di coppia e questa è una delle cose che veramente continuo a vedere più non capita quindi nel momento in cui tu vai a letto con una ragazza da lì si aprono le due possibilità si apre la possibilità di averci una relazione di solo sesso la cosiddetta tromba amicizia e oppure c'è la possibilità di avere una relazione seria quindi ma queste due porte si aprono dal momento in cui ci arrivi al sesso non prima quindi voi potete anche mettervi a tavolino come due bambini e dirvi ah cosa siamo siamo fidanzati non siamo fidanzati poi va bene anche a un certo punto chiarirsi e dire che cosa siamo quindi ma non importa quello che vi dite a parole perché lo stato della relazione è determinato dalle azioni non dalle parole che vi dite voi potete anche dirvi a parole che siete fidanzati ma se non c'è stato effettivamente il sesso non c'è quel vero coinvolgimento emotivo è il primo deficiente che passa che è in grado di approcciarla correttamente farci un appuntamento correttamente se la porta a letto e ti avrà rubato la fidanzata ma non è che la tua fidanzata non è mai stata la tua fidanzata quindi va capita questa cosa qui sia che tu voglia finire a letto con diverse ragazze sia che tu voglia una relazione va capito come arrivare al sesso perché poi è da lì che si aprono le due porte scopri come più di 1400 uomini in Italia stanno finendo in camera della letto in poche ore con nuove ragazze conosciute al vivo riducendo quasi a zero le possibilità di essere rifiutato grazie al metodo AAA funziona anche se non sei bello o ricco e anche se hai più di 40 anni rivelerò il metodo AAA domenica 21 luglio ore 21 per registrarti gratis clicca sul link in descrizione o vai su www.metodoAAA.com